Davanti ai drammatici numeri delle tante vite spezzate per incidenti stradali causati spesso da distrazione o dall'abuso di alcol e stupefacenti, resta fondamentale continuare a sensibilizzare soprattutto i più giovani su un tema come quello della sicurezza al volante. È stato quest'ultimo l'oggetto principale del progetto Responsabilmente Giovani, finanziato dalla Presidenza del Consiglio e realizzato da un partenariato di enti pubblici, privati e sociali, guidati dal Comune di Monza, con il programma che è arrivato alla sua conclusione a un annesato dall'avvio. Il progetto tocca tantissimi temi, è davvero un progetto a 360 gradi, un progetto molto ampio che noi oggi abbiamo portato a compimento e che spero lascerà nei giovani monzesi, ma non solo visto che poi abbiamo fatto una produzione video che racconta tutto quanto, spero che lascerà la possibilità di vedere il problema dell'abuso di droghe e alcol con occhi diversi partendo soprattutto dalla parola prevenzione, cioè muoversi prima che il danno sia fatto. La prevenzione è stata affrontata con sguardi diversi, la cosa innovativa di questo progetto è mettere assieme delle anime differenti su uno stesso tema, quindi Polizia Stradale, controlli sulla strada, a SST che adesso è Fondazione San Gerardo, con della formazione per gli operatori che stanno in strada, l'educativa di strada che è un presidio educativo sul territorio, la Croce Rossa che ha fatto delle serate che erano a scavalco fra l'informativo e in realtà l'esperienziale, il coinvolgimento delle scuole, quindi ragazzi che in alternanza scuola-lavoro hanno studiato come comunicare questi temi a dei loro coetani. Sono stati organizzati circa 40 incontri sul territorio di formazione e informazione per i genitori, attraverso i quali abbiamo anche raccolto numerosi spunti di riflessione e abbiamo dato degli strumenti in più per affrontare le situazioni difficili che man mano possono presentarsi all'adulto che si occupa di giovani. Ci sono un sacco di distrazioni che in tempo non c'erano e perciò i ragazzi giovani di oggi sono obbligati, oltre ad essere bravi e svelti alla guida, a avere anche l'attenzione necessaria per evitare il maggior numero di macchine che ci sono in circolazione rispetto a un tempo, i nuovi mezzi che circolano per strada, i monopattini elettrici, il monobatteria, tutti questi nuovi mezzi, perciò il traffico maggiore ma soprattutto anche una distrazione costante che arriva da un sacco di cose, oltre alla radio e ai telefonini, perciò sì, secondo me l'attenzione e la concentrazione sono la chiave per divertirsi ed essere liberi la guida, perciò in cerca della libertà bisogna stare attenti per godersela.